. Uomini e donne, Martina Lucchena è rifatta? La verità. Martina Lucchena si rifatta le labbra? La foto su social, le accuse degli utenti e la versione dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Martina Lucchena è tra le protagonisti di Uomini e Donne più amate su social. Sono tante le ragazze che la seguono e che, quotidianamente, le dimostrano il loro affetto nei messaggi e nei commenti lasciati sotto i suoi post. . Le stesse, come spiega Martina in una sua recente Instagram Stories, le hanno segnalato una foto che da diverso tempo gira su internet. . . Nell'immagine incriminata ci sono due scatti diversi della Lucchena messi a confronto. . 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